Allora, eccoci con la 458 speciale sul circuito di prova di Fiorano. Ci mettiamo sul rettilineo, scarichiamo tutta la potenza del motore e tutte le marce fino alla sesta. La frenata potente abbinata alla cambiata fast downshift in scalata. Le linee veloci di questa chicane sono possibili grazie al peso contenuto e al grip dei Michelin Pilot Sport Cup 2. Qui in questa frenata in curva c'è stata possibile grazie alla massima integrazione di ABS e di Electronic Differential. Ecco, qui arriviamo in una prossima curva dove il sovrasterzo di uscita c'è stato concesso perché è stato riconosciuto proprio dal side slip angle control. In un traction control tradizionale nella stessa curva ci avrebbe invece tagliato penalizzando le performance d'uscita. Dopo il tornantino arriviamo alla curva veloce dove l'estrattore posteriore si posiziona nella posizione di massimo carico permettendoci di percorrere alla massima velocità. La precisione dello sterzo sulla 458 speciale ci dà il feeling di controllo anche al limite e in tutte le altre condizioni. E di nuovo sul rettilineo la cambiata con la nuova strategia di cambiata veloce caratterizza la vettura e rende la risposta al comando del cambio immediata.